Ciao a tutti ragazzi e bentornati al corso di analisi dei mercati sportivi e benvenuti in questa lezione di analisi avanzata dove andremo ad analizzare l'inversione di trend all'interno di un mercato. Questa è ragazzi una nozione molto avanzata, molto complessa, cerco di renderla il più semplice possibile. Per inversione di trend si intende un mercato che viene classificato come per esempio ribassista, quindi noi per esempio analizziamo un mercato e vediamo che è un mercato ribassista ma riceve appunto, diciamo che trova un'inversione a questo trend quindi l'idea del mercato generale cambia, quindi il trend da ribassista può cambiare, diventare rialzista e viceversa ragazzi, quindi cerco di spiegarvelo in termini abbastanza semplici. Voi per esempio ragazzi avete una corsa, avete una corsa che inizia tra per esempio 5 minuti, adesso questo non ci importa tanto il quando inizia e quando non inizia. Voglio farvi vedere i mercati di trading di questa particolare corsa. Allora prendiamo per esempio questo mercato, vediamo se riusciamo appunto ad averlo. Come possiamo vedere ragazzi questo mercato in questo momento è chiaramente un mercato ribassista, vedete appunto che questo cavallo è stato tradato a 5.5 e continuamente il mercato è sceso, è sceso, è sceso, è sceso ma in questo momento possiamo vedere che il trend sta cambiando, ossia che l'idea di questo mercato è cambiata. Non ha ancora raggiunto la zona di resistenza del breve periodo che appunto è probabilmente il punto di 5, quindi a 5.1 e sotto forse addirittura è 4.9. Però vedete ragazzi che questo mercato è un mercato con un trend ribassista che sta per ricevere o sembra che possa ricevere un'inversione di trend. Cosa vuol dire appunto? Che qualora questo mercato dovesse arrivare per esempio a 5.2 o a 5.3 assolutamente stiamo parlando di un mercato che ha subito una inversione di trend, ossia il trend di questo mercato era un trend al ribasso e in questo momento però il mercato ha cambiato idea e quindi in questo momento il trend sta cambiando. E come si fa appunto ad anticipare un'inversione di trend di mercato? Naturalmente quando capitano le inversioni di trend spesso escono delle notizie importanti, no? Quindi per esempio se abbiamo una partita in prematch dove esce fuori che mancano qualche giocatore molto forte oppure è successo quando era uscito che Ibrahimovic era attestato positivo per il coronavirus, è successo, c'è stata un'inversione di trend all'interno del mercato prematch di quella partita, non mi ricordo qual era la partita, però per dire le inversioni di trend ragazzi sono cambi radicali di pensiero in un mercato. Questo è un'inversione di trend ragazzi, vedete che la zona di resistenza è stata superata, quando appunto succede questo molto molto spesso il mercato cambia completamente idea e che cosa si fa? Molto spesso appunto si entra all'interno del mercato e si fa scalping al contrario, quindi quando appunto il mercato riceve un'inversione di trend molto molto spesso questo mercato è un mercato che sale, 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 sale per poi appunto scendere. Si crea una sorta di bolla all'interno di questo mercato perché appunto si crea molta speculazione all'interno di queste quote ma l'inversione di trend è diverso dalla semplice manipolazione. La manipolazione è semplicemente un mercato che possiamo dire che viene, che riceve un'inversione di trend nel brevissimo periodo, mentre invece l'inversione di trend in generale all'interno di un mercato significa proprio che questo mercato sta cambiando idea e lo si può riconoscere analizzando i mercati se un mercato sta cambiando idea. Lo si può vedere per esempio dalla short term liquidity, si può vedere appunto se la short term liquidity è al top range della liquidità scambiata all'interno di un mercato, lo si può assolutamente capire se appunto questo mercato tendenzialmente può salire. Questo momento sta per iniziare la corsa ma questo è chiaramente un mercato che sta salendo ed è per questo che appunto adesso io cerco di entrare splittando le mie stake, cercando appunto di chiudere diversi profitti. In questo momento sono stato abbinato, chiuso il mio profitto in scalping e vedete ragazzi che il mercato è salito, vedete appunto apro questo qua perché è più semplice per me ragazzi, vedete appunto l'inversione di trend di questo mercato, vedete appunto che questo era un chiaro mercato al ribasso, vediamo se riesco a metterli vicini. Questo mercato qua ragazzi chiaramente era un mercato ribassista, questo era il cavallo favorito ma che cosa è successo? Ha subito un'inversione di trend, vuol dire che il pensiero del mercato è letteralmente cambiato, vedete che questo mercato qua, possiamo dire che la seconda parte, quindi questa parte qua sulla destra, il grafico diciamo sul breve periodo, è esattamente l'opposto di quello che è successo durante tutta la durata del mercato, durante l'apertura di questo mercato è esattamente successo l'opposto di quello che succede sul breve periodo. Questa è l'inversione di trend all'interno di un mercato, significa che inizia a crearsi molta molta più diciamo molta più richiesta, per esempio in questo caso vedete che questo cavallo è stato bancato a ridosso della gara, della corsa, quindi molto probabilmente è venuto fuori qualche indiscrezione, ma semplicemente nei mercati ipici ragazzi per quelli che non seguono l'ipica, in realtà spesso questo drift è causato dalle pressioni causate da altri mercati, quindi probabilmente qualche altro cavallo è stato puntato in maniera che era molto importante, questo ha causato appunto l'inversione di trend su questo mercato principale, vuol dire che non c'era più nessuno che era disposto a prendere questa quota di questo cavallo, quindi si è creata appunto una speculazione inversa, ma è molto importante capire quando si parla di inversione di trend che non si parla più soltanto di una manipolazione che sul breve periodo per esempio muove il mercato che poi ritorna a diciamo seguire l'indicazione che era il trend originale, no? Il trend originale ragazzi lo si vede perché vedete appunto che collegando diciamo i punti si può chiaramente capire che ogni volta che il mercato sale, poi riscende, poi risale, poi riscende, ma tendenzialmente scende, vedete appunto che se noi tiriamo una linea dall'inizio del mercato, ovviamente qua non c'erano soldi, ma siamo partiti da 6 circa e siamo arrivati a 4.5, chiaramente l'idea del mercato sul lungo periodo era ribassista, quindi il mercato tendenzialmente era un mercato al ribasso, un mercato ribassista, ma appunto questo mercato ha cambiato letteralmente idea e vedete appunto adesso siamo in play quindi non conta più diciamo ragazzi, però avete visto che la seconda parte quindi quando sono entrati diciamo i grossi soldi, quando diciamo tutti gli scommettitori hanno deciso dove scommettere, quando appunto tutte varie, insomma, quando il grosso della liquidità è entrata in questo mercato, assolutamente questo cavallo ha subito un'inversione di trend. Perché sono importanti le inversioni di trend ragazzi? Perché molto spesso i traders non capiscono che quel mercato sta andando contro di loro, cioè sta andando nella direzione esattamente opposta a quella che stanno prendendo molti traders. Cosa vuol dire? Vuol dire che molti traders vedono appunto l'andamento di un mercato, capiscono che l'andamento è un, per esempio, un andamento al ribasso e pensano che questo sia un cavallo continuamente, costantemente favorito. Ma ci sono degli indicatori importanti ragazzi quando appunto le zone di resistenza vengono costantemente, come si dice, tagliate quasi appunto dal drift che si crea sui mercati. Questo è un segnale importante ragazzi perché potrebbe appunto crearsi un'inversione di trend. Quando si crea un'inversione di trend ragazzi potete stare tranquilli che è pieno di traders che non vedono l'ora di cavalcare l'onda appunto di questo drift e quando questo accade ragazzi è importantissimo chiudere le posizioni. È importantissimo uscire dai mercati, è importantissimo appunto capire che bisogna uscire, che se noi per esempio siamo nella situazione opposta, ossia stiamo continuando a dare fiducia a un cavallo dove il trend sta cambiando, ovviamente dobbiamo fare molta molta attenzione e capire che c'è un'inversione di trend. Io l'ho capito perché diciamo ho tanta esperienza sui mercati e si vedeva ragazzi che questo era un cavallo che stava essendo bancato, ma io ragazzi ne ho vista centinaia se non a migliaia di corse, non tanto di corse magari ma di mercati e lo si può vedere, lo si può vedere dalla short term liquidity, lo si può vedere dai grafici tecnicamente per riuscire a vederlo in maniera più approfondita e quindi anche più dettagliata bisognerebbe avere i grafici di tutti i cavalli, almeno i cavalli principali, i cavalli più diciamo liquidi, con i mercati più liquidi, avere questi grafici del breve periodo come questo che vedete qua sulla destra, tutti ravvicinati, tutti vicini e vedere su quale di questi mercati, su quale di questi cavalli stanno entrando più soldi. Vedere se questi soldi stanno pressando il mercato per scendere, questo molto spesso causa l'inversione di trend sugli altri mercati. I mercati sportivi ragazzi funzionano così, un cavallo che viene ultra puntato significa che tutti gli altri cavalli iniziano a salire perché voi lo sapete le quote sono rappresentazioni di probabilità di diciamo successo di un evento, voglio dire un cavallo che vince una corsa, una squadra che vince una partita, i gol, under eccetera eccetera, ma capite che quando tutti prendono una quota e quindi stanno cercando di far scendere la probabilità perché il prezzo naturalmente deve scendere se tutti vogliono comprare questo, in realtà vendere, ma comunque diciamo puntare, bancare, se tutti vogliono puntare naturalmente un cavallo questa quota dovrà scendere, questa quota che scende indica il fatto che la probabilità di questo cavallo che vada a vincere la corsa dovrà scendere, questo fa alzare le probabilità degli altri cavalli giustamente, naturalmente questo è un meccanismo classico dei mercati ma è molto importante ragazzi riuscire a capire quando c'è una inversione di trend all'interno dei mercati. Adesso qua non ci interessa, questa è una corsa molto lunga, cerco di portarvi un altro esempio, andiamo per esempio su un'altra corsa, oggi ho fatto trading su un po' di gare ragazzi, ottimi profitti anche oggi, ma in ogni caso voglio mostrarvi se riusciamo appunto a vedere anche qualche altro mercato. Allora vediamo che in questo momento siamo al bottom range della liquidità, quindi molto probabilmente in questo momento il cavallo viene puntato però come possiamo vedere da questo particolare mercato, vediamo se riesco ragazzi, qua Betangel ogni volta mi fa un po' arrabbiare, devo ancorare il grafico. Che cosa succede qua? Questo è un mercato che è andato in bouncing, ne parleremo di bouncing, ne parleremo nelle prossime lezioni, stiamo quasi finendo anche il corso di analisi dei mercati sportivi, abbiamo visto il trend di mercato, abbiamo visto adesso l'inversione di trend in un mercato, come vedete questo è un chiaro mercato che non ha una chiara identità, ossia qua non si capisce se il pensiero del mercato è ribassista, è rialzista, è difficile da capire perché appunto c'è un sacco di bounce e ci sono anche tanti soldi su questa particolare selezione, vado rapidamente a vedere Twilight Song se ha una forma particolarmente buona e non pare, non pare, è una forma non così fantastica, a corso 42 giorni fa ed è arrivato sesto, quindi in realtà molto probabilmente non è un cavallo così chiaramente favorito come per esempio potrebbe essere Temple Brewer che a corso 21 giorni fa ed è arrivato secondo. Andiamo a vedere il mercato di Temple Brewer, quindi andiamo a vedere questo mercato, questo ragazzi è chiaramente un trend rialzista, vedete appunto che se noi colleghiamo i punti, diciamo che anche questo è andato spesso in bouncing, vedete appunto che è andato su, è andato giù, è andato giù, però tendenzialmente il mercato è andato al rialzo, non ha avuto un'inversione di trend, anche se in realtà qua abbastanza ha avuto un'inversione di trend che però non è continuato, non è continuato, se no appunto questo mercato sarebbe andato su, sarebbe andato su, poi sarebbe sceso, sarebbe risalito, poi sarebbe sceso e poi avrebbe continuato comunque il downward trend, quindi tecnicamente non l'avremmo trovato a quote di 7, non sarebbe mai ritornato diciamo a delle quote dei picchi così alti come appunto è successo, quindi questo chiaramente non è un'inversione di trend, è un cavallo che molto probabilmente analizzando rapidamente questi mercati si può capire che viene pressato, quindi molto probabilmente questo scende giù e questo andrà in su, è già successo, c'è stato appunto il break diciamo, c'è stato il drop, il grosso drop causato quasi sicuramente ragazzi da, vediamo se ce la facciamo oggi ragazzi, causato da questa emissione di liquidità, questa emissione di liquidità ha fatto cadere il prezzo di questo cavallo, vedete che sono arrivati praticamente nello stesso momento e quindi qua non c'è nessuna inversione di trend potrei dire, l'inversione di trend ragazzi avete capito avviene quando un mercato taglia come potrei dire, oltrepassa le zone di resistenza ripetutamente, quando vedete che le zone di resistenza in un mercato, per esempio in questo caso vedete che la zona di resistenza è questa sul breve medio periodo, assolutamente questa è la zona di resistenza più alta di questo mercato, vedete che è stata oltrepassata qua, questo è un chiaro campanello d'allarme che questo trend potrebbe essere appunto un trend, un'inversione di trend e infatti vedete che c'è stata questa tendenza all'inversione di trend proprio perché questo era un mercato non tanto rialzista ma tendente ad essere al rialzo ma perché ragazzi adesso non voglio andare troppo nell'avanzato, ma questo mercato qua risente tantissimo di questo mercato qua e quindi dato che questo è un mercato assolutamente imprevedibile, le quote erano completamente pazze, anche il secondo favorito che spesso lavora appunto in tandem insieme al cavallo favorito ha risentito diciamo dei movimenti di mercato del primo cavallo, quindi è per questo che non si riesce a intravedere in questi due particolari mercati una chiara identità di mercato, io questo mercato lo vedo come un mercato al ribasso ma lo vedo perché è il cavallo favorito, non vedo appunto tutta questa naturalezza all'interno di questo mercato, l'idea degli scommettitori e dei traders non è così chiara all'interno di questo mercato e spesso quando vedo queste cose semplicemente lascio perdere il mercato, passo a un'altra corsa e vado a vedere per esempio su questa corsa qua, vediamo un po' 16,35, ecco qua ragazzi si può chiaramente vedere, ci sono 73 mila euro quindi probabilmente ci sono anche un po' di soldi su questo mercato ma si può chiaramente vedere che questo è un altro mercato molto molto instabile, molto molto strano, non c'è un pensiero chiaro all'interno di questo mercato e molto probabilmente anche il secondo favorito avrà un mercato di questo tipo, qua c'è da dire che qui c'è chiaramente un, qua non è un'inversione di trend, questo ragazzi è un mercato al ribasso, questo è un mercato al ribasso che ha subito una grossa manipolazione, il prezzo è salito ma questo è un mercato al ribasso, questa quota essendo un mercato al ribasso è una quota che scenderà, questa è una quota da prendere assolutamente e infatti entro all'interno di questo mercato, faccio uno scalp molto rapido, questo è il trend di mercato naturale, naturalmente dovevo entrare qua su, dovevo entrare qua su, qua c'era l'occasione per entrare all'interno di questo mercato proprio perché qua avevamo appunto una zona di resistenza assolutamente tagliata ma il trend di mercato era un trend al ribasso e questo è un chiaro mercato al ribasso e in questo momento Yankee Stadium infatti sta salendo e sta salendo anche il secondo favorito ma questo è un mercato al ribasso ragazzi quando vediamo queste occasioni bisogna assolutamente prenderle perché questo qua, questa è una grossa, grossa occasione, questo è un mercato che adesso scenderà proprio perché questa è la tendenza del mercato, questo qua è un chiaro mercato al ribasso, cerco di mettermi in coda, manca poco dire il vero, vediamo se riesco a chiudere la mia posizione abbastanza in fretta ma questi sono tipici mercati che seguono l'andamento del trend, questo non è stata un'inversione di trend, questo è stato semplicemente una probabilmente manipolazione o qualche altro cavallo da qualche parte appunto ha pressato diciamo ecco il primo cavallo. in questo momento come possiamo vedere sono quasi abbinato, manca poco, manca un minuto appena, vediamo se riesco a essere abbinato ma in ogni caso vedete che questo mercato ha seguito essenzialmente il naturale svolgimento del mercato, molto molto importante ragazzi uscire, adesso manca un minuto, ovviamente chiuderò la mia posizione perché non riesco a vedere, non so esattamente dove siamo ma devo essere stato parzialmente abbinato, questo e ragazzi questo è chiaramente un mercato che scende, che continuerà a scendere e probabilmente anche quando andrà in play la liquidità che c'è all'interno di questo mercato spingerà il mercato a scendere, in questo momento sono stato abbinato e vedete come è sceso il mercato ma perché? perché ho letto facilmente che questo era un mercato ribassista, lo si poteva vedere, lo si poteva facilmente vedere e guardate qua il drop che c'è stato perché c'è stato questo mercato che è salito in maniera veramente rigorosa, potrei dire guardate che drift c'è stato su questo cavallo, questo ragazzi si poteva facilmente capire, si poteva facilmente capire guardando appunto le due quote, chiaramente quando c'è un favorito di questo tipo che drifta in maniera così immensa quasi, è chiaro che c'è un secondo favorito che diventa veramente il chiaro chiaro favorito, adesso sicuramente si potrebbe anche sfruttare un rapido steam, scusatemi drift dall'altra parte, chiaramente questo è un cavallo che non appena andrà in play, adesso entro con una stake bassa perché non conosco troppo bene questi cavalli, chiaramente questo è un cavallo che non appena andrà in play la quota di questo cavallo salirà, quindi io mi metto in coda per esempio a quote di 3.5 e faccio keep all perché la pressione di tutti questi soldi che ha spinto il mercato in basso, come si dice, sparisce adesso, appena il mercato va in play tutta questa liquidità sparirà e questo permetterà appunto alla pressione dei soldi di tornare dall'altra parte, quindi dal lato della bancata, molto probabilmente un sacco di traders stanno prendendo questa quota qua, si stanno mettendo in coda per prendere questa quota qua e per rispingere in basso il mercato, anche se questo è chiaramente un cavallo, in questo momento estremamente estremamente favorito, ma il trading è fatto di queste cose, vedete appunto che questo qua era il reale trend di mercato, qua c'è stato un trend al ribasso del mercato, vedete che ci sono tante volte in cui il mercato va su, va giù, va su, va giù, ma l'idea del mercato generale, è un'idea ribassista e questo dovete ricordarvelo ragazzi quando tradate, dovete ricordarvi che questo è un mercato al ribasso, dovete ricordarvelo proprio perché quando appunto operate sui mercati dovete capire e dovete ricordarvi, ma sto operando su un mercato manipolato che ha avuto un'inversione di trend, sto lavorando su un mercato dove il trend naturale di mercato viene seguito, sono dettagli fondamentali ragazzi quando volete operare in play, quando volete operare appunto anche in scalping, come vedete questo mercato adesso sta andando nella mia direzione, cerco di mettermi qui in basso, probabilmente riesco a chiudere anche questa operazione senza andare in play perché in realtà non ho studiato molto bene queste corse, questa gara qua particolarmente, quindi appunto non mi fidavo di andare in play, chiudo il mio profitto di 5€ ragazzi analizzando i mercati, ne ho fatti altri 2 o 3 prima sull'altra corsa, molto molto semplicemente analizzando i mercati, vedete che questo è un mercato che è tornato su perché in questo momento il valore naturalmente nel mercato non era più nel continuare a far scendere una quota di questo tipo, ma ricordatevi che questo è un trend che anche se adesso questo cavallo è risalito per le naturali vicissitudini dei mercati, è un trend ribassista, questo rimane un trend ribassista e molti traders che si avvicinano al trading d'economia, oddio il mercato sta andando contro di me, hanno tutti cambiato idea, no ragazzi nessuno ha cambiato idea, questo continua a essere un mercato al ribasso e questo sembra essere anche un cavallo decisamente molto forte, probabilmente questa è una corsa da soltanto un miglio, quindi probabilmente una corsa abbastanza rapida ed è per questo che ci sono fluttuazioni così rapide, ma avete capito ragazzi per inversione di trend si intende un mercato che cambia radicalmente pensiero e inizia letteralmente ad andare nella direzione opposta, trend di mercato lo si analizza appunto guardando l'outlook generale di mercato capendo attraverso i vari movimenti che sono nel breve periodo dove tendenzialmente una quota si sta spostando, quindi se è una quota che va a ribasso, se va a rialzo e se dovessero essere come si dice oltrepassati i punti delle zone di resistenza e di supporto, spesso possono, se queste zone di supporto vengono appunto oltrepassate più volte, spesso si crea appunto una inversione di trend dove appunto il mercato cambia letteralmente idea e spinto appunto dall'idea dei vari traders e dei vari scommettitori appunto cambia completamente idea e si inizia a tradare in un altro modo, i traders esperti sanno che quando c'è un'inversione di trend si tradano i mercati in un altro modo, non si tradano più come si è fatto fino ad adesso, perché se semplicemente noi continuiamo a fare le stesse cose di prima il mercato andrà direttamente nella direzione opposta alla nostra e spesso ci troviamo in quelle situazioni dove i mercati vanno in maniera incredibile contro di noi, sembra che questo cavallo stia per andare a vincere la corsa, vediamo un po', 1.5, sembra molto molto forte, vediamo un po', è stato addirittura tradato, eh sì, sembra proprio che se la vada a vincere, quindi questo era effettivamente il cavallo forte, era effettivamente il cavallo più forte, potevo mettermi in free bet ma non ho fatto tutte queste diciamo analisi, vediamo un po', questo cavallo non dava nessun cenno di essere il cavallo più forte ma in realtà non c'erano chiari i favoriti, ma in ogni caso ragazzi questo è il bello di operare prima ancora che inizino le corse, guardando i mercati, analizzandolo, fate tante esperienze ragazzi, iniziate a capire quando il mercato sta cambiando trend e allora sì che ha senso cambiare anche modalità di investimento sui mercati, se invece i mercati continuano semplicemente a seguire attraverso tanti bounce, attraverso tante manipolazioni, queste succedono sempre ragazzi ma il pensiero sul lungo periodo che è appunto il trend di un mercato, quello rimane fisso, anche se ci sono tante manipolazioni il trend di mercato rimane fisso, se un mercato è ribassista potete star tranquilli che quel prezzo scenderà, se un mercato è rialzista potete star tranquilli che il prezzo sale, se c'è un'inversione di trend però dovete fare molta attenzione perché i mercati iniziano a lavorare in maniera differente. Spero di avervelo, di essere stato chiaro, di averlo spiegato in maniera chiara, stiamo parlando di cose molto avanzate ragazzi, queste cose le vedrete nel trading prematch, soprattutto non soltanto nell'Ipica, lo sto facendo vedere diciamo velocizzato, ecco nell'Ipica tutto è 10 volte 10 per in quanto a rapidità di operazione ma le stesse cose succedono nel calcio, nel tennis, in qualsiasi altro sport. Spero di essere stato chiaro, noi ci vediamo la prossima settimana con una delle ultime probabilmente lezioni del corso di analisi dei mercati sportivi, io vi ringrazio come sempre, noi ci vediamo la prossima settimana con altri contenuti del corso di analisi dei mercati sportivi. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!